salve a tutti i ragazzi e bentornati a questo nuovo video sul canale del critico allora come avete letto dal titolo oggi parliamo di calgio mercato ma non dell'inter oggi parliamo della samb perché come sapete questo canale si occupa anche della san benedettese squadra della mia città quindi è giusto ogni tanto parlare anche della samb e come sempre quando si parla di mercato io cosa faccio prendo gli appunti eccoli qua allora innanzitutto voglio fare i complimenti alla società per il primo colpo messo a segno in questa sessione di mercato colpo in difesa quindi do ufficialmente il benvenuto la samb a mattia gennari mattia gennari svingolato dal nardo dove ha giocato nell'ultima stagione un po di curiosità su di lui 33 anni nella scorsa stagione 36 presenze e cinque gol quindi benvenuto a lui benvenuto a mattia gennari e complimenti alla società per il colpo messo a segno poi ci spostiamo sul capitolo attacco capitolo attacco che come leggevo in questi giorni sul giornale il correre adriatico arrivano segnali positivi da seba che che giota o che riota come volete dire come volete pronunciarlo voi che sembra sempre più lontano dal suo attuale club che è la senigallia e potrebbe sbarcare il rosso blu nei prossimi giorni l'altro candidato per l'attacco alessandro alessandro sbaffo della re canatese sembra invece più lontano perché sono arrivate offerte da club di serie c che sono purtroppo più allettanti della samb ma potrebbe anche restare a regalati quindi la situazione verrà monitorata e vedremo e per ultimo occhio a federico moretti che si svincolerà dall'ancona che l'ancona sta vivendo un periodo brutto come sappiamo quindi molti giocatori si svincoleranno tra cui questo attaccante che potrebbe arrivare per sostituire simone tomassini che è dato per partente quindi anche se mi dispiace però mi dispiace per tomassini perché comunque l'anno scorso è stato il nostro bomber la maggior parte dei gol nostri l'ha segnati lui quindi mi dispiace se se ne va però la samb ha già pronto diciamo il sostituto anche se alla fine mi auguro che tomassini possa restare e niente raga queste erano le news per quanto riguarda la samb appena ne avrò altre non esiterò a pubblicare altri video inerenti alla samb adesso per i prossimi video aspettiamo magari un colpo di mercato dal dall'altra squadra della quale si occupa al canale cioè l'inter oppure ci vediamo direttamente per il dopo italia spagna di giovedì non lo so vedremo vedremo cosa uscirà prima staremo a vedere comunque raga io vi invito a commentare qui sotto se siete di san benedetto se comunque conoscete la samb cosa ne pensate di queste news che vi ho dato come sempre vi invito anche a lasciare mi piace per questo video iscrivetevi al canale attivate la campanellina degli avvisi per non perdervi i prossimi contenuti sul canale come sempre vi mando un saluto e vi do appuntamento in un prossimo video sempre qui sul canale del critico nuovo giorno nuovo video nuovo giorno ma critica un saluto raga ciao